Proprio in questi giorni è stato ritrovato l'audio completo di questo discorso di Gandhi, un omaggio alla riflessione di tutti. L'appuntamento con il testo, commentato per voi da Tara Gandhi, è per il 15 agosto sui maggiori quotidiani e su avuicomunicare.it. A voi comunicare. Quando hai mal di testa non riesci a pensare ad altro. Ketodol pensa al tuo mal di testa ma anche al tuo stomaco perché ha due principi attivi, uno analgesico, l'altro protettivo della mucosa gastrica. Ketodol, il mal di testa non è più un pensiero, è un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Roma, il grande impero che dominò cartaginesi, galli, macedoni. Roma e i suoi nemici, una collezione di eccezionali soldatini di piombo. Numero 1, il centurione della guardia pretoriana, del Prado. Da domani, speciale abbigliamento sportivo uomo e donna. Maglia, magliette e canottiera in tessuto Coolmax a partire da 5,99 euro. Pantaloni intacte l'elicra a partire da 6,99 euro. Giacche da uomo e donna a soli 12,98 euro. Intimo donna a soli 6,99 euro. Fileni ti ricorda da dove vieni. Fileni, il pollo di madre terra. Cosa rende i suoi capelli così felici? La morbidezza, la delicatezza o la freschezza? Ritrovala in Johnson's Baby Shampoo per capelli più felici. Narnia non è più quella che ricordate. Chi siete? Sono il principe Caspian. Tutto ciò che conoscete sta per cambiare. Le cronache di Narnia, il principe Caspian. Happy Dint White complete. Peccato non avere denti così bianchi. Che fai? Leggi? Leggo anch'io. Classici di ogni tempo e paese. Preziosi volumi finemente decorati da leggere e collezionare. Classici di ogni tempo e paese. In edicola i Promessi Sposi e il Kama Sutra a soli 4,95 euro. Mal di schiena? Quando con gli anni i dolori aumentano? C'è Momendol. Momendol ha una doppia azione. riduce il dolore mentre combatte l'infiammazione. Anche in bustine. È un medicinale a base di naprossene sodico che può avere effetti indesiderati anche gravi. Da Angelini. Ma mi spero, fermati. Chi sei? È arrivato il biganter. Oh, quest'anno a caccia. E ci vado anch'io, eh. Oh, brava. Vai. A caccia con biganter. Eccolo. Migliaia di articoli per i tuoi acquisti diretti. Cercateli in edicola. Ma non se ne ha detto di andare a caccia. Ci sono grandi aziende che coltivano talenti e c'è un campus creato da Università Yulm e Mediaset dove brillanti neolaureati diventano professionisti della comunicazione multimediale. Campus Multimedia Informazione. Per iscrizione ai master www.campusmultimedia.net Coltiviamo talenti. Il meteo è presentato da Frigorifero Hotpoint Ariston No Frost in classe A più 499 euro Prezzi Shop Expet Buonasera, la settimana che si apre domani sarà l'insegna del sole al centro-sud con caldo di nuovo in intensificazione da martedì. Il nord invece a più riprese verrà lambito da alcuni sistemi nuvolosi che manterranno le temperature su valori più contenuti. Pochi comunque gli sconfinamenti dei fenomeni dalle Alpi verso la pianura. Domani al mattino nubi sparsi in noque su Alpi, Piemonte e Alta Lombardia ben soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole in aumento al nord a iniziare dalle Alpi centro-occidentali dove si svilupperà anche qualche temporale con possibili sconfinamenti verso la pianura in Piemonte e in serata anche sulla Lombardia nord-occidentale. Un po' di nubi anche su rilievi abruzzesi e molisani. Massimi lievi rialzo lungo l'Adriattico sul basso Tirreno in calo sulle Alpi. Caldo estivo ma nella norma è ancora poco affoso. Elaborazioni e foto digitali Epson Il meteo è stato presentato da Frigorifer Hotpoint Ariston 499 euro Prezzi, shock, expert! Non è bello schiacciare quello che nasce soffice per questo Citterio ha creato le sofficette di cotto da Vignola il cuore più magro del prosciutto in tante fette sottili e vaporose Citterio l'origine fa la differenza Proprio in questi giorni è stato ritrovato l'audio completo di questo discorso di Gandhi Un omaggio alla riflessione di tutti L'appuntamento con il testo commentato per voi da Tara Gandhi è per il 15 agosto sui maggiori quotidiani e su avuicomunicare.it A voi comunicare Cielo Venezia 1270 presenta I valori di una famiglia Miluna Cielo I gioielli delle Miss Chiara Cielo Arte e moda Miss Fashion Cielo Gioielli da sogno UK Cielo Tu ok Cielo Venezia 1270 Prossimamente nei vostri cuori Bonfri Vestire con stile te e la tua famiglia costa pochissimo più di 7000 capi trendi a meno di 20 euro dalla taglia 38 alla 64 telefona all'800 136 000 e richiedi il catalogo direttamente a casa tua o acquista subito su bonfri.it Edison è con gli atleti azzurri alle Olimpiadi di Pechino perché anche Edison vuole vincere una sfida dare energia elettrica all'Italia che vuole cambiare Edison cambia l'energia Perline, Madre Perle, Charms per creare con le tue mani tante meravigliose parure Facilmente Perline il primo fascicolo e il kit di Madre Perle solo 99 centesimi Da fan di casa i nuovi filoni da tavola buoni e già affettati fan di casa Molino Bianco il piacere di mangiare sano Saldi Wind Per tutti i nuovi clienti telefonate scontate fino al 50% Ma dove l'avete comprato sto forchiere? Purtroppo in saldo solo da Wind Sottomarino Nautilus radio comandato scopri l'emozione di costruire e comandare un vero sottomarino con telecamera a colori per esplorare i fondali e scoprire l'impossibile Prima uscita con video istruzioni in DVD solo 99 centesimi a Shet Porta in tavola l'allegria Con Vudi porti in tavola tutta la simpatia la qualità e il gusto che solo Aya può garantire sul digitale terrestre Premium Gallery il meglio del cinema e dei telefilm questa sera alle 21 su Joy con Al Pacino e Sean Penn Carlitos Way su Mia con Kevin Costner le parole che non ti ho detto su Steel la terza stagione di Senza Traccia e alle 21.10 su Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel Zack sei ancora davanti a quel computer hai detto 5 minuti l'ho detto 4 ore e mezzo fa ti è cresciuta la barba da quando te l'ho detto questo programma è offerto da Ostumi Città Bianca è un viaggio nel tempo nel sapore nella genuinità quando sarà sulla vostra tavola scoprirete cos'è lo stracchino nonno Nanni il nonno più buono che c'è storia della cavalleria una collezione di appassionanti fascicoli e soldatini di piombo di grande qualità e precisione numero 1 cavalleggero inglese del 700 a soli 2,95 euro del Prado non è bello schiacciare quello che nasce soffice per questo Citterio ha creato le sofficette di speck dell'Alto Adice tante fette sottili e vaporose buone come appena tagliate Citterio l'origine fa la differenza fatte rimborsare freschissime fresche non temere di aprire bocca anche extra strong buonissimo questo decaffeinato lo credo eh è la mazzatecca è pure intenso certo grande capo che sta tribu luna che non dorme lupo agitato con un montone nervoso poi perché è nervoso? e beh montone no no perché imbeviate pure lui? ma lui che nome ha? lui è il grande neurone solidario ma perché è solidario? perché tanto se vede Laurel te poco prima se vede volare non è solo il mio mestiere è la mia passione De Agostini in collaborazione con il comando generale dell'arma dei carabinieri presenta Agusta A109E radiocomandato con motore a scoppio meccanica di precisione costruiscilo tu con i fascicoli e le istruzioni individui allenati con il flight simulator e pilotalo come quello vero Agusta A109E dei carabinieri prima uscita in edicola a soli 4,99 euro De Agostini grattugiati su resina è il gusto che ti dice la verità voglio vivere così saldi wind per tutti i nuovi clienti telefonate scontate fino al 50% ma dove lo avete comprato sto fortione purtroppo in saldo solo da wind questo programma è stato offerto da Ostuni città bianca passa a Vodafone e fai tutti i bla bla che vuoi per te fino a 1000 euro di ricariche per un anno e un telefono UMTS a partire da 29 euro Vodafone da domani speciale abbigliamento sportivo uomo e donna maglia, maglietta e canottiera in tessuto Coolmax a partire da 5 euro e 99 pantaloni intacte l'elicra a partire da 6 euro e 99 giacche da uomo e donna a soli 12 euro e 98 intimo donna a soli 6 euro e 99 apri il tuo cuore al mondo di Remy rivivi le sue avventure in DVD prima uscita con i primi due episodi e i teneri tatuaggi in edicola 4 euro e 99 che fai? leggi? leggo anch'io classici di ogni tempo e paese preziosi volumi finemente decorati da leggere e collezionare classici di ogni tempo e paese in edicola i promessi sposi e il Kama Sutra a soli 4 euro e 95 ma quale rigore? ma si è buttato tranquilli vado io saldi wind per tutti i nuovi clienti telefonate scontate fino al 50% hai parato un rigore a Vucini ci lo stilista solo da Wind Roma il grande impero che dominò cartaginesi galli macedoni Roma e i suoi nemici una collezione di eccezionali soldatini di piombo numero 1 il centurione della guardia pretoriana del Prado fileni ti ricorda da dove vieni fileni il pollo di madre terra ed ora mi esibirò nel numero del ventriloquo brio blu troppe volle no poche volle no e che viene brata fin saltezza te lo hanno detto disegno e pittura a olio corso pratico con schede, dvd e i materiali per il tuo studio di pittura numero 1 schede, dvd e primi materiali a soli 1,95 euro del Prado quando hai mal di testa non riesci a pensare ad altro Ketodon pensa al tuo mal di testa ma anche al tuo stomaco perché ha due principi attivi uno analgesico l'altro protettivo della mucosa gastrica Ketodon il mal di testa non è più un pensiero è un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi Proprio in questi giorni è stato ritrovato l'audio completo di questo discorso di Gandhi un omaggio alla riflessione di tutti l'appuntamento con il testo commentato per voi da Tara Gandhi è per il 15 agosto sui maggiori quotidiani e su avuicomunicare.it A voi comunicare Buona serata su Canale 5 Immobile Dream di Roberto Carlino non vende sogni ma solide realtà Tu che mi hai preso il cuore Sarai per me Il solo amore No Non ti scorderò Vivrò per te Ti sognerò Cometi gioielli Fatti con grandissimo amore Entra oggi stesso nel mondo della televisione digitale terrestre con Mediaset Premium Calcio, cinema e serie tv in anteprima esclusiva E inoltre più dei 25 canali gratuiti Per farlo basta chiamare subito Mediaset Shopping all'840 50 40 11 A soli 99 euro e 90 centesimi potrai ricevere direttamente a casa tua questo fantastico decoder E insieme due mesi di visione di tutta l'offerta Mediaset Premium Scegliendo subito la nuova modalità di pagamento EasyPay Chiama adesso Scopri e conosci la natura e gli uccelli Guarda è una rondine Colleziona bellissimi richiami in legno E impara a riprodurre il canto degli uccelli di tutte le regioni Primo fascicolo con il richiamo della rondine e DVD a solo 1 euro e 50 Mal di schiena? Quando con gli anni i dolori aumentano C'è Momendol Momendol ha una doppia azione Riduce il dolore Mentre combatte l'infiammazione Anche in bustine E' un medicinale a base di naprossene sodico Che può avere effetti indesiderati anche gravi Da Angelini Tu di che razza sei? Umana o disumana? Umana se lo lasci da un amico o in canile Disumana se lo abbandoni per strada L'abbandono degli animali E' un illecito perseguibile penalmente E' un illecito perseguibile penalmente